Mario è una persona solare. Pensandoci un attimo mi viene in mente le persone di una volta, quelle che con una stretta di mano patruivano tutto. Lui ti guardava e mi diceva quando hai bisogno chiama, quindi non c'erano appuntamenti, non c'erano orari, non c'erano nomi sul calendario, ma quando avevi bisogno lo chiamavi e sapevi che lui arrivava. Quindi era una persona molto affidabile, buona. Nedo Gallina, collega di Mario Bittante, nell'unità cinofila di protezione civile di Caerano, ricorda così l'amico. Lo shock per quanto accaduto ieri è ancora forte, non si pensa che possa succedere ad un tuo amico e invece, dice commosso Gallina, che ripercorre la giornata di ieri dalla notizia della tragedia alle chiamate a tutti i volontari, fino al momento più doloroso quando è arrivata la notizia che la vittima era proprio Mario. Resta in gravissime condizioni la moglie di Bittante che viaggiava con lui in sella allo scooter che si è scontrato con un'auto condotta da una 23enne bassanese che proveniva dalla direzione opposta. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, uno dei due mezzi potrebbe aver invaso l'altra corsia di marcia, forse per un malore, forse per colpa del sole. Inevitabile l'impatto che ha scalaventato a terra la coppia di Asolo. Per Mario Bittante non c'è stato nulla da fare. La moglie, trasportata all'ospedale di Treviso, è stata sottoposta ad un delicato intervento e ora si trova in terapia intensiva, in coma farmacologico. La procura ha aperto un fascicolo. Sul luogo della tragedia oggi qualcuno ha lasciato un mazzo di fiori. Quelle di Asolo e Caerano sono due comunità sconvolte. Da un lato il dolore per la morte di Mario, dall'altro le ore di angoscia e attesa per le condizioni di salute della moglie. Nedo Gallina li descrive come una coppia affiatata che condivideva l'amore per la montagna e per i cani che Bittante aveva al suo fianco anche come volontario di protezione civile. Entrava in simbiosi, erano tutt'uno con lui e lui con loro. Quindi questa sua dota immensa di farsi capire anche senza parlare tanto, perché non era uno che parlava tanto, ma una persona in gamba. Sempre pronto ad aiutare quando c'era bisogno, come durante la pandemia. Quando c'è stato il Covid abbiamo fatto assieme 20.000 ore di servizio per il comune. Lui al mercato c'era sempre, era il primo ad arrivare perché si iniziava presto, sempre con questo modo di fare suo tranquillo, gentile e sereno. Una tragedia che colpisce l'intera comunità. Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del signor Mario e spero che le condizioni della moglie possano presto migliorare, dice il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini.